Oggi abbiamo tantissimo di cui parlare, è un buon momento per entrare nelle criptovalute, andremo a vedere diversi grafici e anche diverse altcoin, tra le quali Ripple, Ethereum, Solana, Cardano, CRO, EGLD e Caspa, le vedremo una ad una. E se non vuoi perderti contenuti importanti e ancora non mi conosci e non sei registrato, ciao sono Sterno Gabenelli, iscriviti al canale attivando la campanella e vediti subito i video come escono. In questo modo sarai sempre informato in tempo reale sulle notizie che possono fare la differenza sul tuo portafoglio. Iniziamo innanzitutto con il grafico di Bitcoin conto dollaro e alla fine vedremo uno dei grafici che ritengo più importanti che esistano. Benissimo, Bitcoin 34.183 dollari, come siamo messi? Vediamo il grafico settimanale, quindi non vediamo quello che succede domani, cerchiamo di ampliare un po' lo spettro. Quando si fanno le analisi sui grafici non serve mettere 1800 indicatori, quando ne bastano in questo caso a malapena due. Stiamo parlando dei supporti e delle resistenze e stiamo parlando in questo caso dell'RSI sul grafico settimanale di Bitcoin. Benissimo, cominciamo proprio da Bitcoin, ci troviamo a 34.163 dollari e ci troviamo in questo range di azione. Vi ricordate che cosa vi ho detto un po' di tempo fa? In questo momento sull'RSI ci troviamo a sbattere contro questo scoglio, questo scoglio è davvero importante. La rottura bullish di questa trendline significherebbe fase 2 del bull market. Viceversa possiamo ancora essere respinti, ma se noi qui a questo punto tracciamo anche una trendline di supporto che abbiamo qui, vediamo come da giugno questa trendline ci sta sempre supportando il movimento di Bitcoin e ci stiamo man mano stringendo. Quindi che cosa significa questo? Questo significa che qualora non dovessimo rompere adesso, e potremmo ancora galleggiare qui, quindi mi aspetto un movimento di Bitcoin davvero fenomenale che potrebbe avvenire da qui ai prossimi periodi. Bene, fin qui è tutto chiaro, adesso mettetevelo in testa, vediamo prima le altcoin che ci è utile per poi arrivare alle conclusioni finali. Questo è il grafico di XRP contro dollaro, grafico settimanale, e ve lo sto dicendo da diverso tempo, quando stava qua sotto, sono delle ottime zone di accumulo, quando si trova al di sopra, sono delle ottime zone per prendere profitto. Allo stesso tempo ragazzi qui ci stiamo stringendo sempre più, adesso abbiamo tentato una rottura al rialzo, non so se effettivamente questa rottura al rialzo potrebbe avere una continuazione, viceversa potremmo rientrare in questo canale. Ma da qui in poi, qualora venisse rotta, mi aspetto una move di XRP eccezionale, quindi qualora venisse rotta al rialzo, mi aspetto che non solo possa toccare i precedenti top temporani che ha avuto qui, quindi un dollaro e mezzo, ma poi addirittura tentare la rottura e prendere forza e poi superare per arrivare ai 3 dollari. Naturalmente è presto per dirlo, ma allo stesso tempo, fin tanto che questo grafico mi dice ciò, mi aspetto che è l'ipotesi più probabile che possa avvenire su Ripple. E adesso fermiamoci un secondo e ascoltate, non sentite che è ben differente. Molti di voi si fanno prendere dalla FOMO, dalle emozioni. Se vi sentite in una fase in cui dovete comprare per forza, se le emozioni vi stanno sovrastando, vi dovete fermare, state sbagliando e vi dico che non probabilmente, ma matematicamente perderete i vostri soldi. Quindi fermatevi e quando non sapete che fare, i grafici vi dicono l'ipotesi più probabile e vi escludono la parte emotiva, ed è quello che facciamo nel mio canale. Quindi se volete essere seguiti non ci sono problemi, come detto vedete tutti i miei video, saprete esattamente cosa fare. Segnatevelo su un post-it sotto il pc e se sentite che siete presi dalle emotività, fermatevi e vedete i grafici. Se non sapete cosa fare, state fermi. Altrimenti le emozioni vi fanno perdere dei soldi. Adesso passiamo al grafico di Ethereum contro Dollar, anche qui il grafico settimanale, ha rotto questa trendline al rialzo e quindi questo ovviamente può essere un buon segnale per quanto riguarda Ethereum. Per quanto riguarda Ethereum invece, qui però bisogna parlare perché Ethereum secondo me non è un asset da visionare a breve termine perché amici se io qui vi faccio uno zoom out su Ethereum, guardate che cosa ha fatto, ha sempre fatto questa cosa. In pratica che è successo? Salita, fase di consolidamento, dopodiché boom, altra salita, fase di consolidamento, più o meno lunga, boom, altra salita, fase di consolidamento e poi scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma è quello che Ethereum ha sempre fatto a livello storico, qui abbiamo un storico un po' più ampio magari rispetto ad altre criptovalute. Quindi per quanto riguarda Ethereum, sebbene possa fare la differenza, acquistarlo a 2000 piuttosto che acquistarlo qui a 800, apparentemente potrebbe fare la differenza, naturalmente se vedete nel breve medio periodo, non fa alcuna differenza invece per quanto riguarda il lungo periodo. E anche in questo caso quindi se le emozioni giocano contro, guardate semplicemente i grafici. Fintanto che i grafici non negano quello che abbiamo visto, mi aspetto esattamente le stesse identiche cose che si ripetano. Quindi 2800, 1760, dove siamo adesso, non cambia assolutamente nulla. Salvo che come detto non fate dei trading, trading, swing trading, insomma di qualche giorno, quello insomma è un altro discorso, ma per quanto riguarda il lungo termine, Ethereum sta proprio bene, bene, bene. Adesso andiamo a vedere il grafico di Solana, qui vi avevo già segnato in base allo scorso video quello che poteva fare Solana, quindi questa possibile move che avrebbe potuto ritracciare. Ebbene, allora Solana sta messa bene, nel senso che ha soppato i precedenti massimi. La candela settimanale ancora non è chiusa, quindi non abbiamo ancora la conferma, si trova a 38,51$. Allo stesso tempo però qui abbiamo un RSI molto molto carico, adesso vi ho allargato un pochino RSI perché c'era il mio viso, però lo stesso tempo abbiamo qui un RSI molto molto carico, come vedete qua ha avuto una move spaventosa e forse un po' troppo e quindi questo fa sì che il prezzo in questo momento sia un attimino ritracciandosi, dando un qualcosa indietro. Per quanto riguarda Solana, vi ho già detto di stare allerta, nel senso che era un'ottima criptovaluta, ve lo sto dicendo da questa estate, quindi complimenti a chi ha avuto la pazienza. Allo stesso tempo il 1 novembre alle 8.42 ho scritto su Twitter che sento troppi che stanno parlando di Solana, per ora è un local top signal e chi vuole intendere, intenda. Che cosa è successo? In questo momento Solana ci trovava circa 44,20$, insomma orientativamente su quella fascia di prezzo, molte persone stanno parlando di Solana, l'emotività, molte persone hanno avuto la fumo di poter entrare e naturalmente i squali e le balene prendono profitto. Da questo che cosa è successo? Il prezzo di Solana naturalmente è risceso. Ora adesso non so quanto possa essere profondo questo ritracciamento, in ogni caso questa zona dovrebbe farci da supporto, quindi mi aspetto che il ritracciamento massimo che possa essere è intorno a questi 33$. In ogni caso qui ho preso dei profitti e ho rimesso degli ordini di acquisto a un livello un po' più basso, non vi dico quale, altrimenti se poi se non ci arriva ve la prendete con me, ma anche quella non ci dovesse arrivare, non mi interessa, non mi faccio prendere dalla fumo, ci sono altre crypto che possono permettermi di farmi fare dei gain, non esiste solo Solana. E questo prima ve lo mettete in testa, meglio è, così come sento tanti volenterosi di dover entrare necessariamente su Bitcoin in questo momento. Ragazzi, ma qualora voi anziché Bitcoin avevate preso Solana al suo bottom, ha fatto un 4x, ok? Quindi ha sovraperformato Bitcoin, che ha fatto sì un poco più di un 2x, quindi anche qualora io fossi entrato in Solana e con i soldi che ho guadagnato su Solana comprasse adesso Bitcoin a questi 34-35 mila dollari, avrei comunque si acquistato molti più Bitcoin rispetto a qualora avessi messo i fondi solo esclusamente su Bitcoin, è questo che cerco di farvi capire. Se Solana dovesse partire non mi interessa, c'è un'altra criptovaluta, quindi spero sia chiaro il concetto che voglio farvi passare se fate naturalmente della speculazione. Adesso guardiamo Cardano, che cosa ha fatto Cardano? Qui Cardano, qui vi dissi, qua di Cardano no? Vi dissi, qui ha rotto al rialzo, potrebbe essere un'ottima zona per entrare, così è stato. Ora però adesso ci troviamo in una zona che ci sta facendo dare esistenza. Anche qui c'è stata una grossa move dell'RSI, un po' meno rispetto a Solana. Se paragonate rispetto a Solana, ecco la metto qua, altrimenti vi copro. Ma questa è una zona importante per Cardano, perché in realtà non è ancora cambiato nulla su Cardano. Abbiamo sì rotto questa trendline che ci portavamo da tantissimo tempo, ma Cardano per poter vedere un impulso di alzista dobbiamo superare questi 45 centesimi di dollaro per poter vedere un accenno di inversione, altrimenti se no qui staremmo comunque sia in una zona di galleggiamento dove potremmo prendere forza, ma ancora è molto molto scarica Cardano. Se andiamo a vedere CRO, siamo rettativamente, sebbene qui ancora peggio, però siamo comunque sia molto similari a quanto abbiamo visto su Cardano. Anche qui l'impulso è stato forse un po' troppo forte. Allo stesso tempo ci arriviamo qui a dover combattere su questa resistenza. Anche qui l'ipotesi probabilmente quella più papabile è un retest, o un retest o un piccolo tracciamento per poi vedere magari la rottura definitiva di questa resistenza e far diventare un supporto. Ma poi ancora prima di vedere una possibile inversione di trend da parte di CRO, troppo ci vuole perché dovremmo superare addirittura questa zona dei 10-11 centesimi di dollaro e sarebbe davvero fenomenale per CRO, anche perché è scesa, ha perso davvero tanto anche CRO. Adesso andiamo a vedere EGLD, che molti me la chiedono. Non conosco nulla a livello di fondamentali, signa di massima sì, ma non la sto seguendo. Per quanto riguarda EGLD invece ci troviamo ancora in questo canale discendente, non l'abbiamo ancora rotto, ma questa è tutta una zona di forte, forte accumulo, anche perché da qui in poi ci sarà una move di prezzo forte che sia al rialzo o al ribasso. Da come sta andando il grafico, questo è un pattern che può essere rotto al rialzo, quindi attenzione a EGLD. Come vediamo per quanto riguarda l'RSI si trova in zona 50, sì, pure qui c'è stato un impulso, diciamo, rialzista abbastanza forte, potrebbe esserci un piccolo ritrasciamento per poi vedere la definitiva rottura. Quindi sì, il grafico di EGLD mi piace, qui poi naturalmente c'è tutta questa zona di 64 dollari da dover rompere. Passiamo adesso a Caspa, Caspa me la chiedete anch'essa in tanti, Caspa in realtà c'è poco da dire rispetto alle altre, abbiamo poco storico, abbiamo solamente questa trendline ascendente che ci sta facendo da supporto tantissime volte, che ci sta portando su il prezzo di Caspa, però Caspa qui ci siamo stati respinti intorno ai 0,05 dollari, le cifre pari solitamente sono le zone di resistenze psicologiche e qui l'abbiamo presa una volta e qui l'abbiamo presa due volte, stiamo tentando la terza volta, però qui su Caspa siamo abbastanza in zona elevata di RSI, non abbiamo mai testato delle zone basse di RSI, quindi su Caspa sebbene trend is your friend ho l'impressione che qui il trend potrebbe finire e quindi magari quando ci fosse un ritracciamento potrebbe essere comunque sia cosa possibile per Caspa anche perché ragazzi se non dico aver acquistato Caspa al listing ma averla acquistato intorno in questa zona quindi pochi giorni dopo il listing significherebbe aver fatto un 3127%, quindi complimenti perché so che alcuni di voi dicevano già da diverso tempo riguardo a Caspa quindi complimenti per chi ha trovato questa crypto per chi ha fatto dei gain per questa crypto ma qualora in questo momento io dovessi scegliere se entrare in Caspa non c'enterei mai in questa zona se non dopo aver visionato la move e quindi aver capito se possa essere una move al rialzo oppure una move al ribasso proprio perché come detto ci troviamo in diverse zone di resistenza adesso passiamo invece al grafico più importante e voglio farvi vedere questo è la total market cap della crypto e questo ragazzi lo dovete mettere in testa questo è sicuramente il grafico più importante perché banalmente parlando se il grafico sale salgono bitcoin e le alcoin se il grafico scende scendono bitcoin e le alcoin quindi in maniera molto molto semplice questa linea mediana che cos'è che ci sta a indicare la fase 2 del bull market o meno quindi qualora ci dovessimo trovare al di sopra di questa zona e quindi dare una spinta significherebbe essere entrati nella bull run nella fase 2 della bull run viceversa con le benissimo respinti dobbiamo attendere ancora un pochino e vedete qua anche l'RSA in questo caso ci dice che ci troviamo in una zona di resistenza che è la terza volta che ci fa dare resistenza è successo qui, è successo qui, è successo qui e il prezzo infatti è sceso ma anche qui ci stiamo stringendo quindi qualora dovesse rompere al rialzo mi aspetto una forte move da parte della total market cap qualora invece dovesse ritracciare anche qui in questo caso mi aspetto magari che potremmo galleggiare un altro po' per poi dopo vedere una move di prezzo importante per la total market cap e quindi fase 2 della bull run e qui ci stiamo stringendo quindi alla domanda è il momento migliore per entrare nelle criptovalute è il momento di investire adesso? allora innanzitutto la prima risposta potrebbe essere dipende dipende dall'orizzonte temporale sull'orizzonte temporale ampio ti lascio il video qua sopra non ci sono assolutamente problemi fintanto che il trend non cambia il trend è un trend rialzista quindi se i tuoi obiettivi sono obiettivi a lungo termine vai pur tranquillo sul lungo termine non cambia nulla acquistare una cripto a un prezzo un po' più alto a un prezzo un po' più basso naturalmente ha posto il fatto che sia una cripto seria magari parliamo di bitcoin, ethereum e altre insomma è da vedere viceversa parlando di breve medio termine potrebbe non essere un buon momento per le cripto magari c'è da aspettare forse uno o due mesi non lo so è inutile dire parlare di tempo perché è una previsione davvero azzardata ma fintanto che non vediamo la rottura di questa zona non scrive più ecco qua dato che non vediamo la rottura di questa zona e di questa zona mi sento di dire che forse è il caso di aspettare sebbene sono quasi sicuro il tuo cervello la tua fomo ti dica di entrare e ecco è proprio questa la cosa da evitare se non sai che cosa fare affidati ai grafici che possono sbagliare ma difficilmente lo fanno fammi sapere qua sotto nei commenti e un bel like se ti è piaciuto questo video grazie